Carissimi alunni, carissimi docenti e tutto il personale e anche carissimi genitori, siamo arrivati alla fine di un anno veramente complesso, veramente difficile, anche per l'emergenza sanitaria che ci ha obbligato ad interrompere le nostre attività in presenza, ma non vogliamo mancare al nostro appuntamento finale con la musica, con la festa di fine anno, con il concerto di fine anno. Grazie al professor Montironi, al professor Frabotta, ai nostri docenti di musica che hanno fortemente voluto questo video con il coinvolgimento di tutti, di tutte le componenti della scuola, lo abbiamo realizzato e con una nota di speranza, una speranza perché tutta questa situazione finisca, perché ci sia un futuro più roseo davvero per tutti e perché ci si ritrovi presto e ci si possa abbracciare ancora. La speranza ci deve accompagnare. La speranza si esiste, ma siamo noi che dobbiamo realizzarla. Siamo noi che dobbiamo tenere la galla. Siamo noi. Io mi sento strano, mi sento sempre a tutto perché, mi chiedo come andrà a finire. Nel stesso tempo penso che dobbiamo essere positivi perché, altrimenti abbiamo perso in partenza. per essere positivi bisogna di sentimenti come la speranza di essere migliori. la speranza di essere uniti in questo mondo, in un mondo di gioia e di colori. la speranza di tornare ad abbracciarmi e di soli. Riuscire con gli amici e rivedere i pareti. tornare ad incontrare i miei compagni e professori, sperando che ci trovi in un'unità di tutto questo. Sperare e continuare di sconfiggere il male. Si liberi di amare questo mondo che ci chiama a cambiare radicalmente il nostro modo di pensare. Non più solo a noi stessi, ma anche un po' di persone che fanno della vita un qualcosa di speciale. La speranza di essere migliori. La speranza di essere uniti in questo mondo, in un mondo di gioia e di colori. La speranza di essere migliori. La speranza di essere uniti in questo mondo, in un mondo di gioia e di colori.